Se mi chiedessero cosa penso di Pratobello, oggi direi che Pratobello è stato un fenomeno mediatico inventato, studiato nei minimi dettagli, presentato come una proposta di legge popolare per difendere il territorio che poi alla fine si è rivelato invece essere soltanto un modo per promuovere l'idrogeno verde in Sardegna. Esattamente quello che si diceva all'inizio, quello che avete visto, se avete visto il video dei comitati sapete a cosa mi riferisco. Sembra proprio un'idea del gruppo editoriale L'Unione Sarda per spingere poi questa cosa dell'idrogeno verde. Io non sto insinuando che L'Unione Sarda abbia degli interessi nell'idrogeno, non ci sono elementi concreti per dirlo. Quello che c'è, si può dire che ormai da subito dopo la consegna delle firme, L'Unione Sarda è passata da una narrazione contro la distruzione del paesaggio, contro gli speculatori, contro l'assalto eolico, a una narrazione completamente diversa. Ora c'è Pratobello, ora va fatto l'idrogeno. Cioè questo è diventato il discorso ormai. Solo per questo non sono contento e credo che non sia stata fatta un'informazione corretta, perché quando parlo con le persone dei comitati mi dicono che per noi i banchetti sono stati un momento di incontro con le persone, abbiamo parlato, abbiamo raccontato del problema. Ecco, io vorrei sapere se a qualcuno di voi che siete stati ai banchetti è stato detto che l'unica alternativa a questo assalto eolico era l'idrogeno verde. Perché è questo che si sta dicendo ora ed è questo che era quello che io chiamo il cavallo di Troia all'interno della legge Pratobello, che avevano già visto, altre persone avevano già evidenziato, questo è stato quello che ha fatto litigare i comitati. E non dico che i comitati che non hanno appoggiato Pratobello siano meglio di quelli che l'appoggiano, perché i comitati che hanno governato la protesta finora hanno tirato troppo la corda, per questo è successo il casino. Quindi l'errore a monte è di chi ha voluto governare dal primo giorno. Ma veniamo a Pratobello. Ci sono tantissimi problemi. Il primo è che c'era stata chiesta una firma. Una firma per una legge di iniziativa popolare. Non ci è stato chiesto di dedicare tutta la vita a Pratobello o che dobbiamo supportare quelle persone che hanno deciso di dedicare la loro vita a Pratobello. Se ci sono tre, quattro persone che vogliono portare avanti questa cosa, che lo facciano pure. Però non è che dobbiamo tutti noi che stiamo protestando da anni adesso mollare tutto quello che stiamo facendo perché c'è Pratobello. E qui chiedo veramente, ma queste 200.000 firme, queste 200.000 persone, gli è stato detto? Ok, dovevano leggere la legge, io l'ho letta. Ho letto che c'era l'idrogeno dentro, ma non ho pensato questi dal giorno dopo iniziano a spingere l'idrogeno. Ho pensato che sarebbero passati almeno mesi, non ore. E sono molto sbalordito di questo, dalla sfacciataggine. Quindi c'è stata chiesta una firma, io sono andato, ho firmato. La cosa più importante di Pratobello era il numero delle firme. Quindi 200.000 persone in Sardegna sono, per la difesa del territorio, non vogliono lo sfruttamento dell'isola da parte delle multinazionali. Ok, non è che adesso 200.000 persone devono andare a combattere per l'idrogeno verde. Perché ormai questa proposta di legge è diventata la proposta dell'idrogeno verde, non è più quella della difesa del territorio. Quindi io non ci vado in piazza con Pratobello, non ci sono mai andato, tra l'altro. La lotta per la difesa del territorio diventa la lotta per l'idrogeno verde. Quindi se volete fare quella lotta siete liberi. Però io quella lotta non la voglio fare, anzi io voglio oppormi a questa cosa. Non mi interessa neanche che facciano la procedura d'urgenza, anzi adesso si prendano tutto il tempo necessario che serve per capire che cosa c'è scritto dentro quella legge. Perché onestamente non ho nessuna fretta io che diventi legge subito. E penso che molte altre persone, anche quelle che hanno firmato, la pensano come me. Ma basterà chiederglielo, io chiederò un po' di persone. Li farò parlare. Una firma che non è una firma, perché poi dal giorno dopo hanno iniziato a contare quelle firme come voti. Hanno detto, neanche i due partiti di maggioranza hanno preso così tanti voti quanto firme nella Pratobello. Cioè firme e voti sono due cose diverse. Però gli abbiamo dato una firma. Una firma perché ci abbiamo creduto, pensavamo che ogni persona contasse. A quanto pare invece no, conta solo l'idrogeno verde. Contare le firme come voti è stato una delle cose più terribili che avete fatto. Poi cos'altro avete fatto? Miliardi di cose, adesso ve le dico. Intanto c'è un bellissimo tramonto qua dietro. Io vengo qui per il tramonto. Poi c'è Guido che sta scolpendo lì. Ci sono tante cose che sono state fatte. Allora la prima, la più interessante, il Comitato di Pratobello. E beh, ovviamente chi ha visto il video sui comitati sa che ci serviva per forza un Comitato di Pratobello. Altrimenti come fai? E poi hanno fatto cose assurde. Adesso vediamola questa pagina del Comitato di Pratobello. Eccolo qua. Non so se lo vedete. Inizia il momento dei Sassolini. Il coordinamento non ha nulla a che vedere con il Comitato promotore della legge Pratobello 24. Non c'è posto sul carro. Allora io non so chi abbia scritto questa cosa, però non è neanche la peggiore che hanno scritto. Questi praticamente stanno dicendo che altra gente vorrebbe salire sul carro di Pratobello, ma io non ci credo. Non credo. Anzi, io credo che la gente inizierà a saltare giù dal carro di Pratobello. Però quello che dice che il coordinamento non c'entra niente col Comitato promotore di Pratobello. E' importante questo perché stanno dicendo che il vecchio coordinamento, quindi quelli di cui abbiamo parlato la prima volta, quelli che non si sono voluti allineare a questa nuova iniziativa, non hanno niente a che fare con Pratobello. È una cosa che sapevamo tutti e meno male. Però loro lo dicono dicendo che non c'è posto sul carro, come se questi volessero salire sul carro di Pratobello. Pratobello si è sviluppata su una protesta che era iniziata anni prima. I promotori di Pratobello sono saltati fuori sei mesi fa. Parlare di carro di Pratobello è una cosa indecente perché Pratobello è salita sul carro di una protesta già avviata. Quindi forse dobbiamo dire che non c'è posto per Pratobello sul nostro di carro, non di noi sul carro di Pratobello. Ecco, è stato supportato dall'evento mediatico, dall'influenza mediatica dell'editore in questione. Però si era creata un'onda, un'onda che è nata grazie all'aiuto soprattutto di chi c'era prima di Pratobello. Quindi dire che quelli che c'erano prima non devono salire sul carro, ragazzi, siete voi che dovete scendere da questo carro il prima possibile e andare per conto vostro e dire, oh, noi siamo Pratobello, siamo il gruppo di Pratobello, iniziate a stare per conto vostro. Altro che, quindi non c'è nessun carro da cui scendere. E poi, ovviamente nel post precedente il riferimento non è per ricordimento della gallura. Mamma mia, è capitato anche a me, è capitato anche a me quando faccio cose virali. I primi due giorni sto proprio male. Infatti non scrivo, non pubblico niente perché sarebbe peggio. E qui si vede proprio c'è una crisi maniacale. Quindi persone che sono uscite fuori di testa da un successo che hanno avuto, che è stato un successo ovviamente basato sulla protesta di tutti quelli che sono venuti prima. Con l'aiuto di un editore, quindi l'Unione Sarda che ha fatto una campagna mediatica massiccia a favore di Pratobello, ma io non mi ricordavo parlasse di idrogeno verde quando spingeva a Pratobello. Capito? Quello è il discorso. E questa cosa è l'idrogeno che era nella Pratobello. Era una cosa nascosta. Pensavamo, sì, uscirà fuori. Invece due giorni dopo è la cosa più importante. Non vorrei disturbare Guido che scolpisce. Il litigio più grande tra Pratobello e gli altri è stata la manifestazione del 30. Perché si voleva fare una manifestazione. Il 30 e quelli di Pratobello dicevano che non si doveva fare, si doveva fare il giorno che finiva la raccolta di Pratobello, delle firme. E questo era il discorso. Lì c'è stato proprio un grande scontro. Praticamente molta gente, tra cui tantissime sigle e organizzazioni politiche, sono scese in piazza il 30 per una manifestazione enorme, la più grande mai fatta prima alla regione. E quelli di Pratobello quel giorno invece hanno fatto il banchetto lì e ne ha parlato in un altro video. Lì c'è stato proprio un distacco. Perché se il primo accordo fra comitati era questo, ok, noi non appoggiamo la Pratobello ma non la ostacoliamo. E quello era anche un po' l'accordo che avevo pensato io. Ho detto dai, vabbè, io li lascio fare, vediamo cosa succede. Non li ostacolo. Ecco, ho pensato anch'io a quello. Però il 30 agosto invece quelli di Pratobello hanno ostacolato la manifestazione perché avevano detto al giornalista che la manifestazione del 30 non era roba di Pratobello. Ne abbiamo visto nel servizio di Videolina e ne abbiamo già parlato. Poi c'è stata la giornata di Pratobello, la grande festa che purtroppo era uno dei primi giorni freddi e quindi di fine estate non c'era nessuno. A me è sembrato molto, molto povero come evento. Ma io non sarei mai andato, però ho sentito le persone che parlavano. Una ha detto io vado da M***a, domani andiamo da M***a. E a me sembrava una pizzeria. Ha detto ma che cosa è, pizza? No, no, Amarina Piccola. Cioè già che una persona dice vado da M***a, intendendo l'evento di fine consegna firme di Pratobello, già quello è destabilizzante. Non è stata una bellissima festa quel giorno, ma a me non sembra. Sono usciti due video, pochissimi, poca roba, non si vede nulla. Non ne hanno più parlato, penso che se ne vogliono dimenticare. E quindi c'era la necessità di una grande festa, quella che hanno fatto con la consegna delle firme che sono andati alla regione. Ovviamente tante persone, un terzo di quelle che c'erano il giorno del 30, in cui veramente eravamo tanti, abbiamo fatto tutto il cortello. I flash mob, ormai secondo me ragazzi dovete smetterlo di fare i flash mob. A parte perché vi state veramente dando la zappa sui piedi, come si dice. Flash mob sta diventando ridicolo. Quello lì con le pennette di plastica con scritto Pratobello24, cioè ragazzi. Mangianti, questi che vogliono difendere l'ambiente, quante ne avete comprato? Mille? Per fare così con la pennetta con scritto Pratobello? Magari se si va in giro in quelle strade se ne trova anche una per terra? Non lo so. Comunque non mi sono piaciute le pennettine, non mi è piaciuto i palloncini. I palloncini, ragazzi, i palloncini devono uscire dalle vite degli esseri umani. Non è possibile andare in giro con i palloncini. Ma anche se sono palloncini biodegradabili, che poi mi hanno detto che sono palloncini green, che hanno anche il seme dentro. Avete idea di cosa sia la filiera di un palloncino green? Cosa succede alla natura per fare un palloncino green? Cioè ma ve lo devo dire io queste cose. Non ho idea proprio, io sono scioccato. Anche solo la presenza di un palloncino è negativa in un ambiente di questo tipo, ragazzi. Poi la raccolta fondi. La raccolta fondi di 50.000 euro, io lo capisco. Però, raga, questa raccolta fondi, no, no, non ne voglio neanche parlare. Guarda, se poi volete ne parliamo, però. Quindi è inutile che sotto scrivete che poi aiutando voi si aiuta a tutti. No, aiutando quel gruppo di persone si partecipa alla loro iniziativa e solo alla loro iniziativa. Non si aiuta a nessun altro. Quindi, se volete aiutare la protesta, sceglietevi bene chi aiutare, come aiutare. Per esempio qui basta anche solo innaffiare, zappare, piantare un albero. Mi dispiace, sto diventando l'anticomitato, sto diventando l'antipratobello, sto diventando forse il peggior nemico di tutti quelli che forse mi apprezzavano fino a ieri. Però va fatto, se non lo faccio io non lo fa nessuno. E quindi... Poi ve l'avevo promesso, che dicevo due parole. Io poi ho rispettato anche il silenzio, perché molti dicevano il silenzio è d'obbligo. Cioè, ma ho letto cose tipo il silenzio è d'obbligo. Cioè, mica il prossimo che mi scrive il silenzio è d'obbligo, gli racconto veramente tutto. Mi dispiace veramente, io non so, forse smetterò anche di occuparmi di questa cosa. Se questa protesta è marcita davvero così tanto, io non voglio avere niente a che fare con questa protesta. Ma se invece c'è anche solo la minima probabilità che ci riprendiamo quello che ci hanno tolto, e cioè una protesta vera, una protesta libera, una protesta popolare, una protesta spontanea che parte dagli espropri e non da una redazione, allora cercherò ancora di fare qualcosa, raga. Ciao! Grazie a tutti!